Fin dai tempi del liceo, avendo frequentato il liceo delle scienze umane, abbiamo volto un tirocinio e quindi da là è nata la mia passione per questo mondo. Tante nozioni, tante lezioni che sono state molto utili a capire tanti aspetti di questo lavoro che non conoscevo. Molto bene, siete stati molto molto presenti in tutto il percorso, è stato lungo per il Covid però siete stati presenti sempre e siete venuti incontro a tutte le nostre esigenze. Bravi anche loro, presenti anche loro, molto validi. Formativa, soddisfacente e emozionante perché mi ha tenuto comunque bella in vita. Consiglierei la Training Academy ad altre persone a me vicine per approfondire il percorso di studi desiderato. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.